Il versante lucano del Parco Nazionale del Pollino a Rotonda è finalmente tempo di ciaspolate, vediamo. La neve è tanta attesa, ha finalmente impiancato le vette del versante lucano del Parco Nazionale del Pollino e per tutti, grandi e piccoli, è tempo di divertirsi. E questa è la località Pettarreto, nel comune di Rotonda, siamo a quasi 1400 metri sul livello del mare. Anche il cucciolo? Eh sì, per la prima volta abbiamo portato il cucciolo a fare un'esperienza. Lui non mi sembra tanto convinto. No, si deve semplicemente abbientare. Adesso lo slego, sicuramente inizierà a fare il pazzo. Da dove è arrivata? Dalla Puglia, da Altamura. Ma non è un po' grandicello per lo slittino? Eh vabbè, noi siamo pugliesi, noi non siamo abituati a vederla. È divertente, abbiamo i bambini, ci divertiamo con loro, è una giornata diversa ed è tutto bello. Il passaggio è fantastico e niente, è molto divertente. Allora, è arrivata la prima neve, che cosa è possibile fare qui da voi? Noi ci troviamo al rifugio Fasanelli, in contrada Piano Pedarreto, nel comune di Rotonda. Si possono fare diverse attività, tra le quali diciamo le ciaspolate e sci di fondo. Noi preferiamo diciamo anche dare qualche consiglio agli ospiti che giungono qui in struttura, partendo dalle ciaspolate, perché sul Pollino diciamo il regno delle ciaspolate, ma anche sci di fondo con un'associazione locale di Rotonda che organizza sci di fondo sul territorio. Da dove arrivate? Io vi sento lamentarvi. Veniamo da Taranto, da bellissima Taranto. Prima volta sulle ciaspole? Sulle ciaspole sì, è la prima volta, speriamo che ci divertiamo un po'. Come andrà a finire? Io ho sentito che vi stavate lamentando, freddo, neve però. Eh sì. No, no, bellissimo, vabbè, dobbiamo abituarci, perché noi siamo abituati a stare al mare, al sole, noi facciamo otto mesi di caldo, nove mesi di caldo durante l'anno, quindi la neve è un pochino un'extra per noi, quindi ci divertiremo sicuramente, dai. Pollino è il regno delle ciaspole, ma le ciaspole sono davvero adatte a tutti? Sicuramente è un mezzo facilissimo, adattabile a tutti gli escursionisti, diciamo, in versione invernale, quindi con un semplice attrezzo, appunto, questo delle ciaspole, insomma, si gode di questi paesaggi invernali che ci sta regalando anche in questo momento, insomma, questa stagione. Cioccolata calda, caminetto, la conclusione perfetta di questa giornata? Eh certo, niente di meglio, insomma.